In caso di sinistro la legge garantisce all'automobilista di potersi rivolgere al proprio carrozziere di fiducia. Ci spieghi come funziona? In effetti è esattamente così. C'è una legge specifica che è la 124 del 2017 che garantisce all'automobilista la libertà di scelta in caso di incidente appunto di portare la propria vettura presso il carrozziere di fiducia. Sotto questo aspetto come categoria consigliamo anche i nostri clienti, i nostri automobilisti, qualora avessero la sfortunata situazione di subire un incidente, di rivolgersi anche al carrozziere per la compilazione del CID che è in effetti il primo elemento importante che riguarda la gestione del sinistro. Quindi avere magari dei giusti consigli sulla corretta compilazione. Succede però che le compagnie assicurative possano indirizzare verso carrozziere convenzionate e che succede? Davvero così? Diciamo che purtroppo sì. Quando il cliente si rivolge direttamente alla propria compagnia portando appunto il CID, succede che disattendono quella che è la reale situazione, cioè il fatto di informare i propri clienti che possono, sempre tutelati dalla legge, invece andare dal proprio carrozziere di fiducia. Su questo vogliamo sollecitare e informare i clienti appunto di informarsi bene quando vanno a stipulare il premio dell'assicurazione, perché si devono far spiegare bene le clausole che firmano. Vogliamo quindi ricordare quali sono i diritti garantiti dalla legge agli automobilisti in caso di sinistro? Ancora una volta ricordo sempre che la libertà di scelta, quindi di rivolgersi al proprio carrozziere di fiducia. In più la legge prevede una riparazione a perfetta regola d'arte, quindi proprio per questo il fatto di avere fiducia del proprio riparatore garantisce il fatto di essere sicuri di avere alla fine una vettura riparata secondo i criteri della perfetta regola d'arte.